Mister Andrea Pietruti, posso racchiudere questa partita con che sofferenza, però così è ancora più bello. Sì, sicuramente sì, basta che vengono i tre punti, va bene tutto. Ovviamente diciamo che poi a mente fredda dobbiamo mantenere un po' più la calma, anche perché, ripeto, ogni partita sarà una guerra e abbiamo bisogno di tutti gli effettivi, me compreso, che non mi devo far cacciare, anche se tra prima e secondo tempo veramente non ho fatto nulla, però è stata una mia ingenuità, pure lì devo prendere e andare in spogliato di quei ragazzi, non devo lasciarli sia il secondo tempo sia la prossima partita da Cerra che è importante senza me in panchina, però, ripeto, sono contento per i tre punti perché i ragazzi se lo meritavano da tante 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 partite e pareva che non doveva arrivare questa vittoria, però a differenza delle altre abbiamo avuto consapevolezza fino alla fine di crederci e alla fine ci ha dato ragione. Assolutamente, infatti un po' il copione sembrava quello di tutta la stagione, il primo tempo in vantaggio, nel secondo subivate un po' la rimonta di tutti gli avversari, però insomma ti faccio i complimenti perché ci hai creduto in primis tu, giocando a cinque fino proprio a un minuto dalla fine quando è arrivato il gol. Sì, sì, no, ma con i ragazzi ci eravamo detti che era una partita da vincere a tutti i costi, quei tutti i costi sono stati visti anche nell'atteggiamento condottiero, combattivo da parte veramente di tutti, quindi la mentalità l'abbiamo cercata di inculcare già da diverse partite, da diversi allenamenti, ci stiamo allenando veramente col sangue agli occhi e poi alla fine, anche con sofferenza, però poi dopo alla fine ci ha dato ragione. Mister, i tre punti, insomma tu giochi, hai giocato una vita, adesso alleni anche da tanto tempo, sicuramente ti permettono di vivere una settimana un po' più serena, insomma c'è qualche sorriso in più, anche se questo gruppo ha dimostrato di essere sempre molto coeso, molto unito, però sicuramente la miglior medicina poi è quando vai sul campo e ottieni tre punti. Eh, lo sai bene anche tu Fede, cioè purtroppo vincere aiuta a vincere, aiuta ad allenarti bene, ti dà sicurezza, ti dà consapevolezza dei propri mezzi e quest'anno a volte veramente abbiamo raccolto, non lo dico per trovare una scusa o altro, ma abbiamo raccolto veramente molto molto poco di quello che abbiamo fatto al netto dei nostri errori. Se andiamo a vedere abbiamo fatto veramente pochissimi errori eppure abbiamo subito tre gol, poteva finire anche con qualche gol più di vantaggio da parte nostra e non siamo stati lucidi a chiuderla, quindi un po' per colpa, un po' per la stagione diciamo sta girando tutto non proprio come volevamo, però ripeto la cosa bella è che durante l'allenamento non è mai mancato l'entusiasmo, non è mancata la voglia, la società veramente c'è sempre dietro e ci sprona a crederci e noi quello che faremo da ora fino all'ultima partita, l'errore più grande non sarà quello di sentirsi sasi perché veramente non abbiamo fatto nulla, ma ricordarci queste bellissime sensazioni di vittoria che ci mancavano veramente da 12 partite. Non è facile per te perché insomma la squadra è competitiva, erano fuori insomma Bagnoli, Madonna, Ciafardini, Nicola Salvatore, quindi comincia a essere complicato anche per te fare le scelte giuste, insomma valutare in base a quello che vedi in settimana. Sì, finalmente dopo 12 partiti ho fatto realmente delle convocazioni, ho mandato oltre Antonio e Fabrizio che non ci sono, ho mandato due in tribuna per scelta tecnica per quello che era la partita, quindi finalmente posso avere questa grande difficoltà perché non è facile mandare fuori due elementi come quelli che hai detto tu che si sono allenati benissimo e che sicuramente avrebbero dato un loro contributo, però così facendo si alza la qualità dell'allenamento, si alza la qualità anche del singolo e si è visto perché tutti hanno dato quello che dovevano dare.